40 confraternite attive in tutta la regione ed oltre 3.000 volontari che operano per assicurare servizi di assistenza, trasporto, protezione civile e formazione. Sono i numeri delle confraternite Misericordia di Puglia, un movimento che si unisce e si compatta nel tempo, garantendo un supporto sempre maggiore alle istituzioni e ai cittadini. Lo fa attraverso la neonata Federazione delle Misericordie di Puglia, la quinta in Italia dopo Toscana, Emilia Romagna, Campania e Calabria, il cui scopo è proprio quello di unire e coordinare al meglio il lavoro svolto dalle diverse confraternite pugliesi. Una struttura che centralizzerà alcune, non solo attività, ma centralizzerà anche delle situazioni anche amministrativo-burocratiche, chiamiamolo così, di tutte le misericordie presenti in Puglia. Però lo spirito con cui nasce Federazione è quello proprio di creare una rete tra le associazioni di misericordie, quindi in quanto tale dare assistenza a 360 gradi, oltre che poi fare delle attività in comune, tutte quante insieme. Un'associazione di associazioni, costituita lo scorso mese di dicembre a Molfetta, ma presentata ufficialmente questa mattina con una cerimonia ospitata ad Andrea nel Chiosto di San Francesco, alla presenza dei delegati provenienti dalle altre sedi regionali. Per ribadire un legame sempre più saldo tra i confratelli e le consorelle, che da anni operano sul territorio per affrontare qualunque tipo di emergenza. Le misericordie che sono presenti qui in Puglia si sono attivate sin da quando ci sono stati i primi sbarchi di profughi, quindi si parla anche nel 91-92, quindi abbiamo un'esperienza in questo nel campo della protezione civile, nel campo dell'emergenza sanitaria, delle attività sociali. Quindi è un'attività molto costante e continua. Oggi con federazione noi andiamo a consolidare quello che è l'attività istituzionale dell'SS, cercando di creare una sorta di coordinamento logistico e amministrativo.